Assalto al distributore Dils che si trova tra Bitonto e Palombaio. La notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, 4 o 5 persone con una piccola gru caricata su un furgoncino hanno sradicato la colonnina del self-service contenente i soldi dei rifornimenti di Pasqua e Pasquetta. Una volta abbattuta i malviventi hanno fatto sparire i mezzi utilizzati per l'assalto per poi concentrarsi sulla colonnina. Inutili però i loro tentativi di aprirla per rubare l'incasso. I loro piani sono stati mandati all'area dall'intervento tempestivo degli uomini della metronotte di Bitonto. Alla vista della pattuglia i malviventi si sono dati alla fuga abbandonando la colonnina a terra. Ingenti i danni per il gestore del distributore, danni che però senza l'intervento delle guardie giurate avrebbero potuto essere molto più pesanti. Alla vista della pattuglia i malviventi si sono dati alla fuga abbandonando la colonnina a terra.